La squadra mobile di Caltanisset ha tratto in arresto un uomo e una donna, marito e moglie, per detenzione ai fini di spaccio di eroina. Sono stati intercettati mentre transitavano per le vie della città a bordo di un'autovettura da un equipaggio della sezione antidroga, nel corso dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti entrambi si sarebbero mostrati particolarmente insofferenti e avrebbero fornito agli agenti versioni diverse sul luogo di provenienza, chiedendo di potersi allontanare per raggiungere i propri figli. Inoltre l'uomo, alla guida del mezzo, avrebbe dichiarato di non aver portato con sé la patente. Vista la situazione, i poliziotti della squadra mobile accompagnavano i due in questura per ulteriori accertamenti. Negli uffici di via Catania la donna avrebbe accusato un malore, poi avrebbe consegnato agli agenti un involucro contenente 30 grammi di eroina. L'uomo arrestato in concorso con la moglie per il trasporto della droga è stato denunciato per sostituzione di persona, poiché avrebbe fornito agli agenti false generalità. L'eroina, una volta immessa nell'illegale mercato della droga, avrebbe fruttato 1800 euro circa. Il giudice per le indagini preliminari, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha convalidato gli arresti e ha applicato la misura della custodia ai domiciliari.